ciao a tutti ragazzi oggi siamo qui su cs go il mio primo gameplay su cs una mini partita questo vabbè ora è già iniziato quindi quando vinto l'oro la prima partita ma vabbè siamo pronti ora io devo preparare mentalmente Sì, ci dobbiamo preparare un minuto Un minuto Sì Sì c'è questa affa ecco ci siamo tossici scivoli ci siamo secondo rango col P90 ci siamo col P90 c'è questa affa comunque sono passato il livello c'è questa affa 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 qui c'è questa affa I have eyes on the enemy Could you stop help? Need help At the middle Good job everyone I'm going to go ahead I don't want to enter I have this pistol no abbiamo vinto questa partita io con questo video concludo se vi è piaciuto ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti alla prossima iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto ciao a tutti